Biancavilla verso la commemorazione dei defundi, quest'anno c'è una novità, un'unica celebrazione eucaristica nella giornata del 2 novembre. Ne parliamo con Don Agrippino Salerno. Allora, perché questa decisione? Cosa cambia? Come si svolgerà questa Santa Messa il 2 novembre? Il 2 novembre la Chiesa ci fa guardare con attenzione nella fede la preghiera per i nostri cari. Vogliamo commemorare. Commemorare significa non solo ricordare, ma far sì che i nostri cari siano presenti, presenti accanto a noi. E questo è un articolo della nostra fede che noi professiamo ogni volta che preghiamo il credo. Credo nella comunione dei santi. I nostri cari che vivono già a cospetto di Dio pregano per noi, come noi, come Chiesa pellegrina sulla terra, preghiamo per loro. Biancavilla ha conservato per tanti anni questa particolarità di celebrare il 2 novembre tante sante messe nelle varie cappelle. Ci sono pro e contra. Abbiamo valutato serenamente, magari forse avremmo dovuto sentire un po' più le confraternite, ma in questo caso, già che si parla di celebrazione eucaristica, abbiamo pensato bene che è un bel segno che diamo alla città di una unica messa comunitaria. Questa espressione di una Chiesa unita nella varietà dei ministeri, nella varietà dei propri compiti, quindi il clero in primis, clero diocesano e regolare, tutte le realtà ecclesiali, ha importanza le confraternite che già lavorano tanto per il culto dei defunti. Ma questo non significa che il 2 novembre, già che non si fanno le messe nelle cappelle, diciamo, confraternali, questo viene proibito. Abbiamo tutti i mesi di novembre ancora per dedicarci, coltivare ancora questa fede nel suffraggio per le anime dei nostri defunti. E' anche una proposta che si lancia, che non dobbiamo ricordare solo il 2 novembre i nostri cari defunti, ma che ci sia anche una presenza più costante, cristiana, al cimitero, che aiuti i nostri fedeli alla preghiera. In alcuni paesi addirittura c'è un cappellano che viene nominato per il cimitero. Noi ancora non abbiamo questo, anche per l'esiguo numero di sacerdoti, ma è opportuno che noi sacerdoti, che siamo anche i padri spirituali di tante confraternite, possiamo garantire una presenza più costante anche durante l'anno. E quindi questo diventa un inizio di un cambiamento sempre in meglio e sempre finalizzato a evangelizzare. Ecco, non dimentichiamo che anche nei luoghi della sofferenza si può fare il primo annuncio, si può evangelizzare, si può essere vicino alla gente. E' una chiesa che come madre abbraccia tutti. E allora non vogliamo rompere la tradizione e dire, come qualcuno dice, ah si è fatto sempre così, non è bene cambiare. No, la novità è sempre positiva, nel senso che vogliamo dare un'espressione di una chiesa unita, una chiesa che in comunione si stringe attorno al grande dono dell'eucaristia celebrata e vissuta. Soprattutto nella varietà dei carismi, questo diventa un impegno. La preghiera eucaristica è per tutti i nostri cari defunti e ogni Santa Messa ha un ricordo particolare per i defunti. Quindi vogliamo superare questa mentalità del particolarismo o del privatismo. La Messa non è un fatto privato, è un momento di comunione e un momento di grande ecclesialità. Ricordiamo dove si svolgerà questa Santa Messa e il luogo negli orari. Ecco, il 2 novembre alle 10.30 nel Cimitero Nuovo, che c'è un grande spiazzo dove c'è quell'albero maestoso, lì allestiremo l'altare, allestiremo tutto quello che serve per la liturgia e vi aspettiamo in tanti che possa essere veramente una grande manifestazione di fede, di preghiera e soprattutto di evangelizzazione.